Il Trastevere Calcio alza il sipario sulla stagione 2019-2020 con la presentazione delle maglie ufficiali della prima squadra. Presso il Trastevere Stadium in Villa Panfili, ribattezzato dai presenti come il Salotto di Roma, la dirigenza Maranto ed alcuni illustri ospiti si sono riuniti per dare il via alla nuova stagione Trasteverina, la quinta consecutiva nel campionato di Serie D. Cerimoniere dell'evento il giornalista del Messaggero Ugo Baldi, al tavolo dei relatori il presidente del Trastevere Pierluigi Betturri, il vicepresidente Bruno D'Alessio, il direttore generale Flavio Betturri, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il coordinatore dell'area sud della LND Luigi Barbiero ed il presidente del Conilazio Riccardo Viola. Le ambizioni sicuramente non mancano dalle parti di Via Viteglia, come traspare soprattutto dalle parole del presidente Betturri, che desidera e sogna il salto nei professionisti in tempi brevi. Noi ce l'abbiamo messa tutta per formare una squadra veramente competitiva, ovviamente dipenderà anche dalla composizione dei gironi, perché sappiamo che quest'anno ci sono squadre in Serie D che sono molto blasonate e quindi per un programma, per un progetto vero aspettiamo la composizione dei gironi e allora vi sapremo dire la nostra... tuttavia cercheremo sempre di far bene. Questo Trastevere punta al salto di categoria, se non in questa stagione, magari nei prossimi anni comunque. Ma noi cerchiamo di non allungare troppo i tempi perché in realtà se riuscissimo a sbloccare la questione del campo noi siamo una squadra in grado di arrivarci, non dico facilmente, ma di arrivarci perché le prerogative ci sono, perché ci sono i valori e perché siamo in grado, dopo quello che abbiamo fatto in questi anni di Serie D, di rappresentare al meglio il calcio nel Lazio. Momento clou della serata, quello dello svelamento delle nuove divise da gioco della prima squadra, con Capodaglio, Lorusso e San Nipoli, a posare come modelli per fotografi e telecamere. Come ogni anno abbiamo comunque un merchandising da seguire, da innovare e sicuramente avere il nostro seguito e avere anche uno store comporta comunque dei cambiamenti importanti. Ogni anno presentiamo le nuove maglie di questo periodo, quest'anno abbiamo di nuovo tre maglie e non due come l'anno scorso. E' l'anno dei nostri 110 anni, perché noi siamo nati nel 1909, quindi è un anno importante, speriamo di renderlo ancora più importante con il campionato. Le nostre maglie sono sempre comunque basate sui nostri colori sociali, che sono amaranto e bianco. Infatti la prima maglia è amaranto con i pantaloncini bianchi, la seconda è tutta bianca, stile real, diciamo, e la terza tutta nera. E sono contento, insomma, di questo evento, abbiamo avuto un sacco di seguito, ci sono circa 100-150 persone, oltre ad essere onorato di avere Francesco Chirelli qui con noi, il presidente della Lega Pro e anche Viola, insomma, il presidente dell'Elconi e altre autorità sportive. Se il buongiorno si vede dal mattino, in casa Trastevere ci saranno sicuramente delle splendide giornate. Una società che ha i piedi per terra e procede vedendo bene quali sono i passi possibili da compiere. Ha una capacità anche di interlocuzione con i valori che sono fondamento del calcio. Io credo che abbia tutte le caratteristiche per fare, cioè il problema vero è lo stadio. Presentazione delle maglie del Trastevere Calcio, una società, presidente Viola, che non si occupa solo di sport, ma guarda molto anche nel sociale. Ma credo che soprattutto è quello l'aspetto che mi colpisce ogni volta che vengo a parlare con loro. Perché? Perché di calcio, di attività agonistica ci sono tante squadre e tante realtà. Loro rappresentano qualcosa di importante, qualcosa di significativo, che credo che fa, come ho detto nella presentazione, che fa bene a tutto il movimento. C'è bisogno di società che interpretano questi lavori, questi valori, per consentire a tutto il movimento calcistico di andare avanti. Quindi in bocca al lupo a loro perché da una parte sono competitivi per raggiungimento dei risultati, dall'altra portano avanti questi valori. Io credo che le qualità della società del Trastevere vadano ben oltre quelle che sono le risultanze della classifica del campionato di Serie D. Un settore giovanile invidiabile, numeroso e qualitativamente importante. Iniziative sociali importanti, l'abbinamento ormai da anni con la comunità di Sant'Egidio. Un abbinamento prestigioso dal punto di vista sociale, dal punto di vista religioso, ma soprattutto dal punto di vista di quelli che sono i principi a cui la società del Trastevere si ispira. E credo che a questo punto sia importante anche tutto il contesto in cui la manifestazione si è svolta oggi, cioè il Trastevere Stadium, la casa del Trastevere, il salotto della società del Trastevere. E quindi l'auspicio migliore è che possano raggiungere le migliori soddisfazioni, ma soprattutto che possano proseguire con questa attività che interagisce nell'ambito del territorio, ma nell'ambito dell'intera città di Roma. Grazie